Buonasera, buonasera, mezzanotte e 53 minuti, è l'ultima edizione del nostro telegiornale. Partiamo con la politica perché è sempre più duro lo scontro fra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il Premier è un bluff, attacca me perché è in difficoltà sul Russiagate, ha detto il leader della Lega, mentre Di Maio e Zingaretti difendono il Presidente del Consiglio, è Salvini che deve chiarire i suoi legami con la Russia e oltretutto lo scontro si sposta anche sulla questione sicurezza. Matteo Salvini è duro con Giuseppe Conte, a lui ho finito di rispondere, faccia il Presidente del Consiglio se è in grado di farlo, è tra il nervoso e il disperato perché si è rivelato un bluff, è in difficoltà e attacca me, ormai è in un angolo. Replica la sortita in contropiede del Premier che ieri ha ascoltato dal Copasir il Comitato di Controllo sui Servizi, sui rapporti con l'intelligence statunitense e il Ministro della Giustizia americano Barr nel caso Russiagate, non si era limitato a smentire comportamenti rituali o contro le regole, ma aveva anche puntato il dito contro il leader del Carroccio che mai aveva voluto riferire sui presunti finanziamenti russi alla Lega, sul caso dell'hotel Metropol, sui rapporti con Mosca. Con Conte si schierano il capo politico 5 Stelle Luigi Di Maio, l'unico Russiagate riguarda Salvini, dice, e il segretario PD Nicola Zingaretti che ribadisce la richiesta di chiarimenti al leader leghista. Ma il segretario del Carroccio apre un nuovo fronte, sull'omicidio della scorsa notte a Roma, il ragazzo ucciso per aver tentato di difendere la propria fidanzata da una rapina. Quello che è successo è inconcepibile, da ex ministro dell'interno fa ancora più male vedere tutta l'insicurezza della capitale governata dai 5 Stelle e i taglieri disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell'ordine in calza Salvini. Conte è durissimo, sono parole vergognose, si può ingrassare il consenso in tutti i modi, ma farlo in questo modo è davvero miserabile. E a proposito di questa vicenda di cronaca in cui si accennava del servizio a Roma, gli investigatori sono alla ricerca degli autori dell'uccisione di Luca Sacchi, il giovane di 24 anni di professione personal trainer, ferito a morte mercoledì sera alla periferia sud della capitale con un colpo di pistola alla testa dopo aver reagito, sembra, all'aggressione della sua fidanzata. In base alle testimonianze raccolte e agli elementi forniti dalle telecamere di sorveglianza della zona, gli inquirenti sono alla ricerca di due persone che sarebbero fuggite in macchina dopo aver tentato di colpire la fidanzata della vittima e aver sparato forse nel tentativo di portare a termine una rapina. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, i genitori del giovane hanno concesso l'autorizzazione per donare i suoi organi. E a Francoforte è stato l'ultimo giorno dei saluti per Mario Draghi che ha preseduto l'ultimo board della Banca Centrale Europea prima di lasciare la presidenza a Christine Lagarde ed ora ci si chiede cosa farà Draghi e quale ruolo si ritaglierà sulla scena pubblica. Francoforte, ultimo consiglio direttivo di Mario Draghi prima di lasciare il posto dal 1 novembre a Christine Lagarde. «Ho cercato di rispettare il mandato nel miglior modo possibile, mai gettare la spugna», ha detto il numero uno uscente dell'Eurotower. Un mandato di otto anni nel corso dei quali Draghi ha dovuto navigare in un mare mai così in tempesta, riportando in porto la barca della moneta unica quando sembrava ormai sul punto di essere travolta dalle onde della grande crisi del debito. «Faremo tutto il necessario per difendere l'euro e, credetemi, sarà abbastanza», disse a Londra nel luglio del 2012 ed è stato abbastanza, nonostante le critiche provenienti dai falchi dell'austerity e in particolare dalla Bundesbank di Weidmann per una politica monetaria troppo espansiva e troppo accomodante. Tassi bassi, attualmente sotto zero per i depositi delle banche presso la BCE e iniezioni di liquidità, quel quantitative easing che riprenderà da novembre, stavolta al ritmo di 20 miliardi al mese. Questa è la ricetta degli ultimi anni per placare la febbre dei titoli di Stato, favorire la ripresa economica e cercare di far ripartire l'inflazione. Da quest'ultimo punto di vista, però, gli effetti dell'alleggerimento quantitativo non sono stati tali da riavvicinare sensibilmente il target statutario del 2%. Disagi prevedibili domani in tutta Italia, in particolare a Roma, per due diverse agitazioni sindacali che rischiano di creare problemi nei servizi pubblici. Lo sciopero riguarda trasporti locali, aerei, ferroviari e marittimi e la rete autostradale. L'adesione di piloti, assistenti di volo e quella del personale di terra negli aeroporti, anche a Milano, ha indotto all'Italia a cancellare 260 voli. Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, lo sciopero non dovrebbe riguardare i treni più veloci, mentre i convogli regionali saranno garantiti nelle fasce dei lavoratori pendolari. Nella capitale, lo stop delle aziende municipali riguarderà tutti i trasporti e tra i servizi pubblici anche la raccolta dei rifiuti. Una manifestazione di protesta, organizzata da molte sigle sindacali, è prevista in mattinata al Campidoglio. E parlando di sport, non è stata una serata molto fortunata per Roma e Lazio in Europa League. I giallorossi di Fonseca stavano per portare in porto una preziosa vittoria grazie a una gol di Zaniolo, ma al 94esimo sono stati raggiunti dal Borussia Mönchengladbach con un rigore letteralmente inventato dall'arbitro ed in Europa League, lo sapete, non c'è l'assistenza della VAR. Peggio è andata alla Lazio, che a Glasgow, sul campo del Celtic, ha giocato un'ottima gara, passando in vantaggio con Lazzari e sfiorando più volte il raddoppio. Dopo aver subito il pari all'ottantanovesimo, ha incassato la rete che ha sancito la sconfitta della Lazio per 2 a 1. E a Milano oggi è stata presentata l'edizione numero 103 del Giro d'Italia di ciclismo. Per la quattordicissima volta nella storia di questa corsa si partirà dall'estero, precisamente dalle strade di Budapest. 21 tappe, partenza da Budapest e conclusione a Milano, per un totale di oltre 3.000 chilometri e mezzo. 3 le frazioni a cronometro, 6 per velocisti, 7 di media difficoltà e 5 di alta montagna, per complessivi 7 arrivi in salita. Questi i numeri del 103esimo Giro d'Italia, il primo per lo slovacco tre volte campione del mondo, Sagan, che proprio oggi ha confermato la sua partecipazione. Altra novità assoluta della corsa del 2020, il via di una tappa da una base militare, quella friulana di Rivolto, per festeggiare la sessantesima stagione della pattuglia acrobatica nazionale e delle frecce tricolori. Tre giorni in Ungheria, ma anche tanto sud per la carovana rosa, che dopo l'omaggio a Fellini e Pantani con i traguardi di Rimini e Cesenatico, salirà fino ai 2759 metri dello Stelvio, cima coppi del Giro del prossimo anno. Probabile giorno del giudizio sabato 30 maggio, con la penultima tappa da Alba a Sestriere, 200 chilometri di fatica e 5000 metri di dislivello, attraverso montagne che hanno fatto la storia del ciclismo. Il Colle dell'Agnello, l'Isoarco, il sconfinamento in Francia e il Monginevro. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento.